Ovviamente c'è chi ha problemi con Rockstar Games Launcher ad avviarlo, quindi in questo caso in questo piccolo tutorial ti spiego come risolvere il problema all'avvio oppure che il programma non funziona completamente. Quindi in questo caso può essere che Windows Defender blocchi così l'accesso alla cartella per avviare così Rockstar Games Launcher, quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro scudo di Windows Defender, qua sotto, sicurezza di Windows, ci clicchiamo sopra, protezione da virus e minacce, scendiamo fino a giù fino a trovare, così gestisci impostazioni, scendi fino a giù fino a trovare, aggiungi o rimuovi esclusioni. In questo caso andiamo così a prendere, aggiungi un'esclusione e vai a prendere così una cartella, vai direttamente nella, questo PC, vai a disco locale C dove tieni così il programma, programmi per 86, vedi se qui c'è la cartella di Rockstar Games ed eccola qua, questo è il Rockstar Games, seleziona così la cartella ed eccolo qua. Abbiamo selezionato così la cartella nella sezione delle esclusioni, eccolo qua, se non ti va bene puoi anche rimuovere così la cartella. Una volta aggiunto così nelle esclusioni la cartella di Rockstar Games, torniamo un attimo indietro fino a trovare, così, protezione e firewall della rete, consenti app tramite firewall e andiamo così a mettere modifiche e impostazioni, consenti un'altra app, spoglia, questo PC, disco locale C, ovviamente faccio disco locale C questo PC perché io tengo Rockstar Games installato qua dentro, nei programmi per 86, scendo fino a trovare così la cartella Rockstar Games, launcher ed eccolo qua. Mentre io vado a mettere direttamente nella cartella Rockstar Games, social club e ci metto pure i social club helper, faccio apri e faccio aggiungere. Una volta fatto ed eccolo qua. Rockstar Games, launcher, connessione privata e pum, e fai ok. Se non dovesse funzionare andiamo direttamente nella cartella, questo PC, disco locale C, programmi per 86, in attrazione Rockstar Games, launcher, fai F2 per rinominare così la cartella pure il tasto destro sopra, rinomina la cartella. Qui ci metti il trattino basso, shift più il punto interrogativo o lo slash, fai il trattino basso e faccio invio. Ed eccolo qua. Se non dovesse funzionare con questo metodo puoi semplicemente disinstallare l'applicazione oppure mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità. Questa qua la devi togliere come spunta, disabili l'ottimitazione del schermo intero ed eseguilo come amministratore. Se non ti piacciono queste opzioni puoi sempre togliere. Quindi, ora non ci resta che avviare il Rockstar Games launcher. Sessione così ai servizi di Rockstar Games. Ed ecco che il launcher Rockstar Games si è avviato senza problemi. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo al Rockstar Games launcher, che non si avvia oppure ha problemi a procedere così con la cartella collegata così al launcher per colpa del Windows Defender, che blocca così la cartella e blocca anche il processo all'applicazione, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!